La famiglia Viotti si è dimostrata quello che poi era la prima impressione che abbiamo avuto intorno a un tavolo, di competenza, collaborazione, ma di quell'artigianato che oggi viene un po' a mancare, perché comunque in corso d'opera ci sono le varie problematiche nella costruzione, loro hanno seguito nei minimi particolari tutto l'evolversi di questo progetto. Una famiglia di persone che ci mette passione nel suo lavoro, che sa ascoltare quelli che sono i bisogni degli allevatori e soprattutto sa dare soddisfazione a quelli che sono gli allevatori, per cui non c'è una valutazione da 1 a 10, bensì c'è continuare a essere clienti di un'azienda che ogni giorno cerca di innovarsi e soprattutto di rimanere al passo con quella che è la richiesta degli allevatori. Abbiamo riconosciuto soprattutto sul materiale di ottima qualità i tempi che hanno messo molto veloci, assistenza soprattutto, se c'è bisogno ci sono sempre. Il nostro titolare è molto contento, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del prodotto, perché l'animale sta molto meglio. Qualsiasi problema, qualsiasi ora, in qualsiasi momento tu chiami, la Cristina e il Manuele sono sempre pronti. È stata una collaborazione ottima, in quanto loro sono persone molto professionali, riescono velocemente a capire le esigenze del cliente e adattarle al lavoro che c'è da fare. Come la nostra situazione, abbiamo visto che hanno preso e stravolto tutto quello che c'era, dandoci poi alla fine un lavoro che ci consente a noi di lavorare meglio. Un altro punto a favore di ATZ, della famiglia Viotti, o non la chiamo ATZ, la chiamo famiglia Viotti, e comunque può sopperire a delle esigenze magari particolari, anche magari nei giorni festivi. Infatti, poco tempo fa abbiamo avuto un problema, neanche fra l'opposta a agosto, io ero via due giorni, si è rotto un bel belatoio e loro il sabato pomeriggio o domenica puntualmente sono venuti e me l'hanno sistemato. Abbiamo costruito una stalla moderna che è tutta un'altra cosa. Grazie.